Ho stoppato la live, ma c'erano qualche signore No, noi non abbiamo ricominciato, no, no, la mia ricollegata Raga, comunque, che stavamo dicendo, iscrivetevi al canale di Leonardo Guida Guida, aspettate raga, mo, aspettate un attimo Faremo un attimo la live, la stop un attimo, vi facciamo vedere proprio il mio canale